ragazzi ci siamo questo è il sistema onicomb andiamo a vederlo ho impiegato più di 100 ore a stampare tutto quello che mi serviva per realizzare questo sistema non è altro che un sistema per attrezzare la vostra parete con tutto quello che vi serve grazie anche il sistema grid finiti potete inserire quello che volete ve lo assicuro ora vi faccio vedere il progetto apc vi faccio vedere come modificare le basi con un programma che si chiama open scad e poi andiamo a vedere come ho attrezzato la mia parete eccoci su printable punto com che all'interno di questo sito potete trovare una marea di file da poter scaricare da adattare al vostro onicomb ci sono una miriade di adattatori da inserire come potete vedere ora scorre un attimo la pagina e vedete che ce ne sono una marea questo è solo una pagina io ho fatto la ricerca da qui ho scritto onicomb e come vedete ci sono più di 550 pagine dedicate a questo qui quindi ne avete di cose da stampare per tutte le vostre esigenze non vi preoccupate questo sistema io lo reputo molto interessante anche perché non è la classica attrezzeria che compri con i soliti inserti che ci devi appoggiare quello qua ti puoi adattare qualsiasi cosa puoi anche costruirte la te come vedete qua la community molto vasta anche qui si appoggia anche a grid finiti quindi tramite ogni com potete trovare degli adattatori per da inserire su questa attrezzeria per appoggiare le vostre scatoline di grid finiti per capirci andando magari alla prima pagina che ora mi ricordo che questo questa persona qui ha dei dei tool interessanti per grid finiti che sono eccole qui come vedete si possono adattare per tutte le vostre esigenze ma non solo questa su voi fate delle ricerche trovate delle cose interessanti io anche ho creato un adattatore per la mia beagle cam per poterla attrezzare al muro comunque poi vi metto il link della base di ogni com da utilizzare con open scad perché parlo di open scad perché voi potete allora partiamo dal presupposto che ci sono già delle basi create sia per le stampanti di dimensioni 20x20 che per quelle più grandi 30x30 però se uno vuole fare una modifica alla sua base questa qui per intenderci vuole crearla più piccola o più grande magari c'ha delle stampanti come le ultime uscite che fanno un piatto anche addirittura i 40x40 però io l'ho trovato molto interessante per compattare un po' la mia base perché mi la parte finale della mia base usciva incompleta mi servivano solo tre parti 33 colonne praticamente per capirci quelle preimpostate solitamente sono di 7 8 colonne allora per fare questo vi lascio il link sotto nei commenti non preoccupate c'è un file fatto apposta da utilizzare con open scad ora io apri il programma per farvi capire come funziona open scad e quanto è facile modificare questo file allora open scad ovviamente se fate una ricerca su google scrivete open scad lo potete scaricare in versione gratuita qui fate download lo scaricate lo installate tranquillamente io l'ho già installato ovviamente ora apri il programma per farvi vedere come modificare quel file allora aprite open scad io ce l'ho già memorizzato si chiama custom onicom vi ripeto vi lascio il file da poter scaricare in internet senza nessun problema ok cliccate due volte per aprire il programma e questo è il programma è molto semplice programma vedete col tasto sinistro vi ruotate in questa maniera col tasto destro vi spostate con il roll rimpicciolite l'immagine ingrandite l'immagine allora come vedete qua avete una scala 100 200 300 sia nell'asse x che nell'asse y che è quella che a noi ci interessa cosa si può fare con questo programma che è molto interessante allora potete modificare l'altezza lo spessore tutto quanto però in questo caso a noi non ci interessa modificare questo vi faccio vedere se io da 8 lo porto a 9 se io gli do la conferma vedete che sia un po alzato però non toccate queste impostazioni perché altrimenti avete difficoltà ad adattare i pezzi lasciate sempre standard 8 a noi ci interessa modificare le colonne quindi questa voce qua come vedete la taglia della della griglia è impostata a 100 ovviamente voi non vedete 100 perfetti perché va calcolato in base alla dimensione di ogni singolo esagono giusto per capirci se noi la griglia la mettiamo da 100 la spostiamo a 200 gli diamo invio e confermiamo come vedete lui ha praticamente raddoppiato tutto però si ferma 190 è normale perché se no sforerebbe lui va per difetto praticamente sta all'interno dei 200 io ho creato ad esempio una griglia a tre colonne che è quella che a me mi serviva io adesso non mi ricordo più che impostazioni gli ho dato per creare eccolo era 70 ovviamente mi serviva di più e gli avevo dato un se non ricordo male un 100 no 150 no gli avevo dato un 180 esatto eccolo qua avevo creato questa impostazione ora per creare per exportare in stl dovete andare qui perché se voi fate subito export stl lui ti da errore perché prima dovete fare un rendering ok per fare il rendering dovete andare qui come vedete scritto render oppure premere il tasto f6 lo cliccate lui ora sta facendo il rendering come vedete un attimo che finisce giusto per farvi vedere le varie operazioni ecco è riuscito a fare il rendering andate qui ora potete esportarlo in stl lo esportate lo salvate dove volete e siete a posto mi cade tutto ecco lo solo farvi vedere come vedete le mie più di cento ore di stampa sono state dedicate a questo on income quindi adesso andiamo a montarlo andiamo a vederlo realizzato e valutate anche voi se ne vale la pena prima voglio farvi vedere alcuni componenti che sono indispensabili una volta stampata la base allora questi componenti sono indispensabili servono per incastrare le basi o altre aggiunte l'una con l'altra ci sono diversi tipi di componenti questo che è a foro aperto che serve per incastrare magari questa base qui all'interno così questo che è molto indispensabile perché da una parte si c'è il foro aperto dall'altra parte c'è un foro io ho scelto l'entrata m4 però ci sono diversi tipi c'è anche m6 m8 per inserire il tassello che ritenete più opportuno questo è molto interessante perché così io posso unire quattro griglie praticamente io lo inserisco qua non inserisco quali inserisco sulle altre griglie scusate ho sbagliato inserisco sulle altre griglie e così mi inserisco ne inserisco quattro e per ultimo vi faccio vedere come si incastra è molto semplice guardate io da una parte l'ho già incastrata lo inserisco qua va a pressione e si incastra e da qua non si sposta neanche se volete perché ha un sistema molto interessante come vedete vi faccio vedere non so se riesce a fare meglio di così lo zoom in questa parte qui lui va a fare presa praticamente è tipo una molla che una volta inserita va ad incastrarsi da lì non si sposta almeno che dovete sforzare ma sforzare con cacciavite per estrarla questo è un sistema molto interessante fidatevi ora procedo al montaggio di tutto poi vi faccio vedere le varie fasi o magari la fase finale forse è meglio comunque restate qui che vediamo un attimo cosa ne salta fuori ragazzi eccolo qui equipaggiato anche con green infinity come vedete c'è la beagle cam con la sua base di appoggio con green infinity tutto calamitato come vedete qua ci sono le calamite io lo vado a inserire quindi lo posso spostare dove voglio al momento mi sono fatto vi porta pinze porta un porta martello per la forbice per la colla per lo svitol questo per le fascette di varie misure un'altra base appoggio se ci vogliono inserire un'altra scatolina o altro spero di essere venuto fuori dalla ripresa mi sono mi sto un po spostando io spero di sì e qui l'ho bellito con una barra led questo qui queste cose qui le trovate tutte nei siti che vi ho elencato precedentemente comunque vi lascio il link comunque è printables.com giusto per capire ora inserirò altri accessori sto pensando al porta tester un porta calibro e altre cose sono tutti oggetti che grazie alla comuni alla community sono già pronti e disponibili per quello ve lo consiglio ovviamente lo potete espandere per lungo e per largo come volete le basi come vi ho fatto vedere vado a prenderla se la trovo eccola qui le basi sono queste usando e quel programma che vi ho fatto vedere prima la potete allargare restringere fare quello che volete della misura che volete in base alla vostra stampante ovviamente io al momento ho una venti per venti una artillery genius quindi più di tanto non posso fare però mi viene fuori un bel quadrato insomma sono veramente soddisfatto di questo lavoro ora adesso questo è solo l'inizio io inizierò ad espanderlo e vedrete video per video sempre più accessori nuovi beh che ve ne pare di ogni combo è un bel progetto io ve lo consiglio se avete la stampante 3d ve lo consiglio e calcolate che per fare le basi ho consumato circa 700 grammi di PLA quindi diciamo attorno ai 15 euro certo se andate comprarlo direttamente in negozio quella in alluminio per capirci dovrebbe costare all'incirca più o meno la stessa cosa però poi dovrete prendere gli accessori a parte ovviamente non ci sono tutti gli accessori che potete adattare come qui non potete collegare attaccarci una telecamera non potete attaccarci un calibro un tester almeno da quello che io so dopo per carità magari esistono però io non ne sono conoscenza e comunque c'è anche la soddisfazione nella creazione di un qualcosa che avete fatto voi in più ho bisogno di allargarmelo di 3 4 centimetri mi faccio una base lunga 3 4 centimetri devo metterci solo ho bisogno di un spazio due spazi mi faccio una base di due spazi è quella la cosa veramente che è molto interessante perché puoi adattarlo come vuoi bene io adesso vado avanti vado crearmi altri porta trezzi porta test porta porta c'è un'infinità potete portare tutto praticamente io vi saluto mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale perché ci saranno altri bei video interessanti che non sto qui a dirvi però io già in progetto altri iscrivetevi cliccate sulla campanellina e un like mi raccomando e noi ci vediamo al prossimo video ciao